Young Finance è un podcast di educazione finanziaria di Marco Loconte con Gianluigi Ballarani ed Elia Bombardelli. Quando ero giovane io, che luogo sbarcava sulla luna, tutti volevano fare l'astronauta, poi hanno iniziato avere altre idee, i giovani, i bambini, volevano fare i calciatori perché c'erano le veline. Adesso tutti vogliono fare il creator. Voi che siete creator, Elia e Gianluigi, condividete questa utopina. Io vedo i miei studenti a scuola, in effetti ce n'è un buon numero, diciamo, che aspira a diventare creator o influencer, c'è un fascino legato a queste nuove professioni digitali importanti. Ma voi vi sentite creator? Dai, c'era quel modo di dire voglio fare lo youtuber a un certo punto, ormai si è espanso anche perché nasce un social al mese, quindi dai sì, facciamo i creator. E per parlare di creator abbiamo invitato un creator. Eh sì, un top creator. Ce ne sono 350 mila in Italia di creator. Sono tantini. Abbiamo scelto Otto Kliman, buongiorno Otto. Buongiorno. E tra l'altro creator che vorrebbe fare l'astronauta, quindi cioè si rovescia tutto perché a me piacerebbe davvero, sono super appassionato di spazio, però mi è toccato questo mestiere che... però forse anche gli astronauti vivono la stessa cosa, cioè sono astronauti... Vogliono fare i creator. No, vogliono fare qualcos'altro, capito? Eh, però sono lì che fanno il mestiere. La Cristofoletti ha aperto il profilo TikTok, no? Faceva i video... Certo, vedi. E magari ci può essere anche l'astronauta creator da un certo punto di vista. Certo, un giardinaggio. Ma facciamo presentare Otto Kliman, come sempre facciamo i nostri ospiti, perché tu sei un creator particolare. Addirittura sì. Allora, io nasco come designer, in realtà. Poi ho cambiato completamente vita quando mi sono accorto che potevo portare un contributo migliore sia alla mia vita sia al mondo, spero, credo, facendo appunto il creatore di contenuti, se così vogliamo chiamarlo. Mi occupo di tecnologia, ma tecnologia non recensioni, quanto più legata al lifestyle, o comunque a cercare di portare passione e voglia di capire le nuove tecnologie e gioire di questo, perché è un mondo incredibile e pieno di cose. Quindi tu praticamente analizzi gli oggetti, gli strumenti, i vari device in particolare, e fai confronti. Fare confronti è una cosa molto importante, è anche un grande esercizio di educazione finanziaria. Confrontare i prodotti e farsi un'idea su cosa sia la scelta migliore. Sì, diciamo che quella è una parte, questa di confronto in cui andiamo a capire se una cosa ha più senso di un'altra ed è sicuramente interessante, ma secondo me la parte più bella è il generale fascino, che è una cosa che si può applicare in tantissimi temi, ma la tecnologia per come sta andando adesso è indistinguibile della magia, no? Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di cose che sono oltre la nostra immaginazione e quindi provare a spalmare questo fascino nelle menti delle persone che mi seguono è il mio obiettivo vero. Poi sì, tutto questo fascino passa attraverso gli strumenti, attraverso gli oggetti, attraverso i device, se così vogliamo chiamarli. E come è cominciato Otto? Quando è che hai deciso, ok, apro un canale YouTube e comincio a caricare contenuti di questo tipo? È iniziato come tante cose sono iniziate nella mia vita, cioè guardando gli altri e pensando accidenti, io voglio fare la stessa cosa, voglio anch'io portare quello stesso contributo, ho iniziato ad andare in bici perché vedevo gente che andava in bici, ho iniziato molto per imitazione, no? E a un certo punto, anche per senso di colpa se vogliamo, avevo tanti prodotti, tanti oggetti che mi piacevano e di cui mi sentivo competente a livello di prodotto proprio e accumularli per il solo fine di possederli, averli all'interno della mia casa, mi sembrava privare il mondo di un qualcosa che io potevo dare loro, cioè a livello di contenuto, a livello di pensiero, di analisi e quindi mi sono tolto questo peso e adesso non sono più così appesantito appunto dal collezionare e dal radunare oggetti ed è una cosa bella. Il creator è un qualcosa che ormai secondo me è quasi un side hustle come si dice, nel senso che chiunque se aggiunge una parte di creator al proprio lavoro ne ha un beneficio in qualche modo perché ognuno ha qualcosa di unico da raccontare che è interessante. Tu che sei comunque un creator a tempo pieno oggi, nel senso che una volta quando ho iniziato io c'era Facebook, stavi su Facebook, ho iniziato proprio a influenzare su Facebook, quindi avevi Facebook, il gruppo, la pagina. Oggi che comunque è veramente un mondo super ampio di social e veramente scherzano ma ogni mese ne esce uno quasi, cioè tu come gestisci proprio a livello professionale questo lavoro? Hai lavori su tutti i social, sei uno di quelli organizzati, sono uno di quelli che lascia le cose come vengono? Come sei organizzato tu? Hai collaboratori? Sì sì, allora da fuori secondo me, cioè da chi mi guarda pensa che io sia una specie di calcolatore super organizzato, super preciso perché tendo a mettere dentro i miei contenuti e i miei video ordine, disciplina, professionalità, cose molto impostate, molto rigide. È interessante che chi mi conosce nella vita privata sono molto caotico anche solo fisicamente, cioè lo studio, voi quando magari mi venite a trovare, mi siete venuti a trovare avete visto tutto in ordine, perfetto, ma perché venivate come tutti che mettono ordine a casa? Sennò è un disastro, è una cosa molto più caotica da questo punto di vista. L'organizzazione tendo ad averla molto, sì, molto poco strutturata, ragiono di settimana in settimana, non riesco più di troppo a programmare perché il mondo della tecnologia si muove così veloce che se tu programmi poi esce qualcosa, arriva un evento, c'è un argomento da coprire, per cui è veramente complesso fare una pianificazione a medio termine e figurarsi a lungo termine. E sì, ho delle persone che mi aiutano per fare quello che faccio e mi aiutano a tenere in ordine e in piedi una struttura, anche se poi non mi ritengo disorganizzato, anzi sono molto molto metodico, però potrei fare molto meglio, cioè ci sono realtà anche comparabili alla mia che sono infinitamente più organizzate. Tu sei un imprenditore, imprenditore di te stesso, della tua arte, come si dice, arte nel senso nobile, di quello medievale, il nostro, un alto artigianato che sul digitale dà grandi frutti. Tu hai un approccio anche, diciamo, sui contenuti ma anche su come sviluppare la tua imprenditorialità. Puoi anche dir di no, eh? No, nel senso che questo è un tema che molti fa fatica magari a porsi dal punto di vista della scalare, diciamo così, il proprio modello di business. Eh sì, allora, diciamo che scalare il modello di business del creator è impossibile perché ci metti il volto, impossibile no, perché puoi strutturarti con altri volti, però il problema del volto c'è, cioè io ci devo essere sempre, se non sono quello che scrive o quello che produce il contenuto, però devo almeno metterci la faccia ed essere lì, quindi devo usare la mia bocca, la mia voce. Poi vedremo, eh, con l'intelligenza artificiale fino a quanto dovrò fare questo, però è un problema di scalabilità enorme. Sì, no, devo dirti che mi sento più un imprenditore che non un artista da questo punto di vista. Per me è un mestiere quello del creator e non ho quella necessità di cogliere le vibrazioni dell'ambiente. Io entro, scrivo il mio contenuto, cerco che cos'è una cosa interessante di cui parlare, che mi appassioni e lo produco esattamente come farebbe un media tradizionale, no? Semplicemente lo faccio lì. Cioè sono più, diciamo, un giornalista se vogliamo, dal punto di vista almeno del processo, no? Che non un artista, secondo me. Beh, un giornalista dovrebbe essere un creator, nel senso che dovrebbe raccontare dei contenuti diciamo nel, nel frame, nel contesto attuale digitale, questo un po' dovrebbe essere la nostra, i giornalisti, il, il nostro, la nostra mission, tanto per continuare a usare tutte le parole inglese che il mio direttore detesta, vabbè, però non glielo diciamo. Ma tu che rapporto hai con il denaro? Eh, il denaro mi ha sempre, allora, devo dire che grazie a questo mestiere sono riuscito a mettere un po' in quadra anche la mia vita dal punto di vista economico, sono soddisfatto di quello che riesco a fare e che posso fare grazie al denaro. Lo vedo molto come uno strumento, ma è molto banale come risposta, credo, però è proprio vera, cioè non punto a usarlo solo per un mio beneficio, ma per creare qualcos'altro che sia, sì, una parte anche di mio beneficio, ma soprattutto un contenuto interessante per il pubblico, quindi spendere il più possibile per cercare di avvantaggiare il canale che poi cresce, che poi mi permette di fare cose più interessanti, perché il denaro non può comprare tutto, diciamo, un social, un profilo personale che funziona molto bene ti fa accedere a cose che non puoi comprare col denaro e che sono molto più interessanti, anche solo il rapporto con le persone e col follower. Beh, la ricchezza relazionale è una ricchezza vera, ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Young Files. Sì, in un'altra puntata, no, Ma, e senti, dal punto di vista degli investimenti, cioè perché ovviamente ti avanzeranno dei soldi mensilmente. Ti avanzano dei soldi. Dove li metti? Se ti avanzano dei soldi, facci sapere. Dali a Marco, esatto. No, nel senso che l'audience che ci segue giovane è molto interessata a questi temi, quindi tu, Otto, investi, non investi, se investi più o meno in cosa? Senza ovviamente darci dettagli dello specifico strumento, ma in via generale. Allora, la prima risposta che ti darei è che è importante, è una cosa anche questa, una risposta semplice, ma vera, secondo me, investire in cose che si conoscono e che si amano, non per forza le più profittevoli. Infatti, la mia risposta è sì, certo, investo sul canale, come vi dicevo, ma mi interessa particolarmente il mondo della ristorazione e soprattutto di un certo tipo, di un certo livello, ma non è dove vorrei investire. Quindi, siccome si sono aperte delle opportunità e stiamo ancora discutendo, eccetera, mi piacerebbe poter portare un contributo in quel mondo che conosco bene, non tanto a livello di business, ma quanto a livello di cliente, è una cosa che mi appassiona moltissimo. Confermo. E mi piacerebbe poter portare il mio contributo in quell'ambito lì. Bello. È una diversificazione, chiaramente, non è che mi aspetto di tirarci fuori particolari guadagni da un investimento di questo tipo, però, sai, quando ci metti del tuo poi i soldi arrivano dopo. Quindi comunque un investimento attivo, cioè anche in termini di lavoro, non solo di soldi. Esatto, bravo, esattamente, non una cosa passiva dove semplicemente, sai, compri delle quote e stai così come investimento semplicemente finanziario. Per aprire i ristoranti otto. Esatto. Trovo che metterci il proprio know-how dentro l'investimento che si fa, almeno all'inizio, o comunque per dare una direzione a quello che si sta facendo sia importante, altrimenti, cioè, sì, altrimenti usi... Ti compri... Sì, investi in borsa, va bene così, non ti interessa. Sembra di capire che il social media editor della sua prossima catena di ristoranti è un carico già assegnato. Esatto, esatto. Però, insomma, sicuramente... Comunque è interessante questa cosa qui, perché uno investimenti fa tutto un fascio, però ci sono gli investimenti che uno deve seguire e gli investimenti che uno non deve seguire in linea di massimo, cioè, nel senso che è chiaro che più tu hai coinvolgimento nell'investimento, minore, tra virgolette, il rischio, proprio perché hai delle aree in cui puoi intervenire. Cioè, lo conosci e quindi hai un approccio. Sì, ma magari puoi anche intervenire, nel senso, se io investo in, faccio ad esempio, una catena di ristoranti, posso dare il mio contributo di marketing, di business per farla andare meglio. Se io mi compro le azioni di un'azienda, cioè lì, mi faccio il segno della crolla. Sì, anche perché non ne compri più di metà, oppure difficilmente hai un grande... Esatto, e aspetti. A volte c'è anche il rischio opposto, l'overconfidence su ciò che credi di sapere, poi succede... Come è successo? La pandemia, lockdown, i ristoranti chiusi e per quanto puoi essere esperto di cucina. Però magari sei così brillante che grazie ai social salvi il ristorante perché lo fai diventare un delivery bazzesco e lì che ci sta, capito, che si conosce l'ambiente e riesce a giocarla. C'è comunque quel pizzico di controllo in più che sicuramente hai per, diciamo, dare più vita ai tuoi soldi, di fatto c'è nel senso dell'investimento puro e nudo. Una domanda difficilissima, ma la pensione? Ci penso particolarmente alla pensione, non ho grandi, come dire, strategie finanziarie in ambito pensione. Tu Otto, scusa, sai che stai parlando con uno dei massimi esperti del paese, hai scritto un libro sulla pensione. No, noi scherziamo, è vero. Quindi tu stai dicendo a un grande maestro, non ho nessuna idea. Ti rispondo a una cosa molto, come si può dire, cheesy, cioè che mi auguro di poter fare sempre quello che mi piace, quindi di non volermi mai ritirare a godermi perché starò comunque già ancora facendo qualcosa che mi importa a reddito, ma che mi piace e quindi non ho bisogno della pensione, capito? Questa cosa... Un'intenzione! No, beh, la pensione è anche, soprattutto, un progetto di, come dire, pensare al futuro e programmarlo, pianificarlo, mettere da parte, investire per poi ricavarne un frutto. Questo è il processo mentale per uscire dal presente. Però lui è giovane, quindi è ancora molto giovane. Eh, non così tanto, però vivo molto nel presente e poco nel futuro. Programmo veramente, come dicevo prima, tanto quanto il canale programmo poco, devo dire che anche nella vita faccio davvero fatica a vedere oltre una certa data. Senti, ho una domanda che facciamo tutti gli ospiti, no? Nel corso della tua attività professionale, qual è la cosa più sorprendente che hai scoperto legata ai soldi? Eh, dovete sapere che nel 2020, quando è arrivato il Covid, eccetera, eccetera, c'è stata anche l'esplosione del mondo cripto ed è stato il momento in cui ho cominciato a prendere un pochino più di consapevolezza dell'uso del nano, perché si è parlato tantissimo del contributo che hanno portato le crypto, tra quelli negativi che sicuramente ci sono stati, di positivo c'è stato che la gente si è interrogata molto di più sul concetto di denaro, sul senso di possesso e quindi tolto il tema investimenti, speculazione, eccetera, lì è dove mi sono interrogato su che cosa voglio fare con il mio denaro, come dovrebbe essere utilizzato in un modo migliore e quindi è stato un cambio di paradigma completo, l'avvento di un modo completamente diverso di intendere la moneta e quello sì, direi che è stato l'effetto wow più grosso. E qual è l'idea che ti ha fatto proprio fare questo effetto wow rispetto a cosa sono i soldi, alla moneta? Il fatto che viene completamente destrutturato il sistema di centralizzazione delle banche, se così vogliamo chiamarlo, il fatto che perde di valore la banconota, il possesso fisico dell'oggetto denaro ma diventa uno scambio di valore e senza intermediari ed è una cosa che non si è mai vista, se non nel baratto, non lo so, in qualcosa che torna molto prima dell'idea stessa di denaro. Secondo te questo mondo crescerà nei prossimi anni o ti aspetti che resti una cosa tutto sommato un po' di nicchia? Penso che arriverà a un certo punto e si stabilizzerà tanto quanto lo potrebbe fare lo scellino svedese, non so cosa usa in Svezia, però per dire che diventerà qualcosa, ma non che vada, non immagino che vada a sconvolgere il sistema denaro come lo conosciamo, ma che vada ad integrarsi dentro un sistema denaro per alcuni settori o per alcune cose, insomma per alcuni usi. Ecco, vorrei incrociare queste tue considerazioni che sono di visione sul futuro anche con il tuo lavoro, perché assistiamo ad una, diciamo così, intermediazione, no, di per esempio sulle monete, poi partirà l'euro digitale che è un passo in avanti ancora, così come sugli strumenti digitali potremmo fare tante cose, ecco il tuo lavoro è quello di andare lì a analizzare, approfondire, come ti poni di fronte, che so, a un nuovo telefono per dire no, ogni tanto ne vengono fuori nuovi, e quella è la tua anche emozione e la preparazione mentale di metterti lì e studiare una cosa nuova? Io penso sempre al passato quando penso a un oggetto di recente concezione, nel senso che rimango stupito in maniera veramente profonda guardando alla tecnologia degli anni 50, 60, 70, perché è più facile da comprendere, nel senso che si utilizzava un'elettronica più semplice o anche solo una meccanica più semplice negli oggetti, ed è assimilabile da una mente non particolarmente preparata o sull'elettronica o sul software, no, quindi è qualcosa di comprensibile. Quello stupore che mi porta a studiare anche oggetti del passato e a portarli nel presente confrontandoli con oggetti del presente, magari del futuro, è quello che vorrei provare a tirar fuori dei prodotti di recente concezione, quindi spiegare, semplificando in piccoli pezzi la tecnologia recente confrontandola magari al passato, è un modo molto facile per spiegare e che mi porta a un traino di fascino nei confronti degli oggetti anche nuovi, anche di recente concezione. Di spacchettare e trovare quell'effetto wow che è diverso. Esatto, che è difficile trovarlo nelle cose recenti perché sono complesse, sono difficili e convolgono troppi campi, quindi andare alla radice partendo dal passato credo sia una strategia per portare l'emozione nel presente, insomma. Guarda, io sono, diciamo, curioso di esplorare con te il mondo della Creators Economy, di questo nuovo mondo, che sono un nuovo modo di lavorare praticamente, che non è ancora ben incasellato, che ha mille possibilità e quello che mi immagino sempre, magari molti ragazzi ci seguono e quindi uno si chiede, ok, oggi Otto è un creator affermato, ma da dove si inizia? Cioè cosa devo fare io all'inizio, anche per capire quale può essere una strada in questo mondo, quali sono i primi passi che dovrei fare? E soprattutto aggiungo un pezzo, perché lavorando a scuola, cioè l'impressione che hanno i ragazzi è che è tutto facile, perché molto spesso i creator condividono ovviamente i successi personali e non si vede tutta la fatica, tutto il lavoro, a volte anche le cose che non vanno e quindi c'è un po' una percezione, come dire, una percezione falsata da parte dei giovani studenti, c'è un mondo bellissimo, che bello, un sacco di soldi, un sacco di eventi, un sacco di opportunità e perché il creator non si fa mai spesso la storia dove è lì che lavora tutto il pomeriggio magari, è una roba noiosa, quindi proviamo magari a dare qualche elemento. Allora, la prima risposta che ti do è di non pensare al denaro e non seguire il denaro, anche se di solito si dice nell'ambito degli investimenti, nel senso che tu devi provare a tirare fuori quello che di buono hai da portare al mondo, secondo me, dove sei, dove senti di poter fare la differenza e di poter dare un tuo contributo. Fatto quello, con il tempo e con la dedizione sicuramente si mette a fuoco anche un modo di renderla sostenibile economicamente, però io stesso, ma come tutti i miei colleghi in cui, dove il creator non era una figura come la descrivete voi, era una persona anche un po' diciamo emarginata, perché alla fine tu ti metti in camera tua con una telecamera in faccia che parli a nessuno e parli da solo fondamentalmente. Ed entra il parente e dice basta, vai a dormire, vai a dormire. Cosa che non è cool vista da fuori, una cosa che anzi, soprattutto negli anni in cui... Soprattutto quando hai poche views per molto tempo. Bravo, esatto. Cioè, poi è chiaro che, come dire, il denaro o il denaro che ne deriva dall'attività diventa uno strumento di approvazione sociale, no? Che lo fa diventare una cosa che funziona anche agli occhi da fuori. Però è una misura un po' semplice, no? La prima cosa dovrebbe essere la propria soddisfazione di fare la differenza, che non è diversa dall'insegnare a dei ragazzi. Semplicemente hai una platea più ampia se provi a portare un buon contributo. Chiaro che poi puoi anche fare male, no, nella tua volontà di portare contenuti e di portare educazione. Però, quindi questa è la prima cosa. La seconda è del fatto che sì, è un mestiere perché sei un uomo, anche per quanto tu possa avere dei collaboratori, che deve essere attore, anche se non lo è e non ha mai studiato per farlo. Deve scrivere i contenuti, anche se ha degli aiuti, ma comunque non ha mai scritto contenuti, magari deve avere rapporti con le aziende perché devi renderla sostenibile in qualche modo. Devi saper editare e montare i video, devi saper tirare fuori, devi saper riassumere in pochi minuti il contenuto di un oggetto magari ipercomplicato come può essere, capito, l'intelligenza artificiale o altre cose. Anche con dell'intrattenimento. E bravo, di tenere un'alta l'attenzione, essere lì, esserci sempre. Tante cose che non si vedono comunque in questo mondo. Ma ci sono delle stime per cui tutti i creator in Italia, ripeto, 350.000 stimati, sono tantissimi chiaramente. E sempre di più. Sono sempre di più, in tutto il giro d'affari si avvicina al miliardo di euro l'anno. Un miliardo. Chiaramente è una stima. Beh, è evidente che è un lavoro su cui molti, come dicevamo all'inizio, pensano che possa essere praticabile, può essere quello dei sogni. Però quello che volevo chiederti, ma tu ti diverti ancora? Accidenti per fortuna, ma veramente per fortuna, sì, tantissimo, perché sono sicuro che sennò avrai già cambiato. Cioè, appena cominci a sentire quella cosa che ti trascina giù, è il momento di cambiare e ancora non è arrivata, non vorrai, capito, tirarmi... La routine, ti imbruttare il cartellino, faccio ancora... Il trucco è continuare a cercare di cambiare, prendere persone che ti diano un po' di freschezza, cambiare social, come dicevi tu, escono ogni settimana, bene, proviamo a vedere se riusciamo a tirarci fuori qualcosa da lì. Cioè, il trucco è il ritmo, come nella musica, no? Bello, no? Io sono curioso di chiederti quali sono i consigli che daresti a un te più giovane, quindi magari per chi ci ascolta riguardo i soldi, il mondo della finanza, ma anche appunto di questa nuova economia del lavoro che, diciamo, tu in cui ti sei ritrovato appunto seguendo non di ora mi trovo il mio nuovo lavoro, ma voglio provare a fare questa cosa qui. Sì, devo dire che non ho mai più di tanto pensato a denaro. Ero, soprattutto, subito dopo l'università, devo dire, abbastanza attannagliato del tema del denaro, perché come tutti i giovani, no? Cioè, tu devi pagare un sacco di cose. Sì, in famiglia non se ne parlava particolarmente e comunque, ma neanche con gli amici, cioè non è un tema il denaro in Italia, è molto difficile, è un po' un tabù, no? Si dice sempre questa cosa. Ed ero abbastanza devastato dal fatto che le cose costavano un sacco di soldi, cioè fare qualsiasi cosa e soprattutto quando veramente non hai il conto corrente vuoto, cioè hai qualche centinaio di euro perché non hai niente, sei uno studente universitario, capito? E da lì ha l'ansia di dover costruire abbastanza soldi per poter fare delle cose che ti piacciono, che può essere anche solo mettere in piedi un'attività, nel senso che all'inizio, cioè il mio primo anno di attività, io non ho mai, cioè ho iniziato subito con un'attività mia, con un socio, e il primo anno non percepivamo un centesimo, era solo investimento, no? Però vivevo ancora a casa dei miei genitori, cioè comunque ero in ansia per questa situazione perché poi mi ricordo che arrivavo alla fine di quando ci dovevamo dare dei piccoli rimborsi spese, eccetera, che avevo l'ansia che non ci fossero i soldi per farlo, è stato terribile il rapporto col denaro in questo senso, non ero abituato all'idea, perché no, cioè quando sei uno studente, i genitori in qualche modo ti tirano dei soldi per fare, non so, capito? Esci la sera con gli amici, capita che la pizza te la pagano i genitori, quindi proprio... A un certo punto vieni scaraventato nel mondo... Così tanto costano le cose nella vita? È stato atroce, per fortuna poi si impara come tutte le cose a gestire. E su questo ti fa condensare delle idee magari da... che hai imparato fino ad oggi, che poi... Di avere un po' meno paura, perché poi mi ricordo molto bene il mio primissimo commercialista, che non è poi stato mai il mio primo commercialista, ho solo fatto l'incontro conoscitivo, mi ha visto che ero devastato dalla preoccupazione, no? Ci hanno fatto lo psicologo, il piccolo commercialista. E se lui lo fa, guarda, allora, non ti preoccupare, io ho visto un sacco di gente che voleva iniziare un'attività come quella che stai facendo, tu che non c'entra niente, ecco il creator, era una cosa di comunicazione, eccetera, e poi gli andava, vanno queste cose, vai tranquillo, succede che poi prende, va il giro, conosci gente, io ero terrorizzato perché non avevo clienti, non sapevo come sarebbe iniziata, cioè, quindi gli devi stare più calmo perché poi a un certo punto le cose vanno, se ti... Stai tranquillo. Una buona parola di un buon commercialista può fare miracoli. Ma però sai che veramente all'inizio tu sei così, dopo che sei stato su questo tapirulan che ti porta fino a, vai lì, l'hai lasciato solo, magari con dei costi, perché... Ma poi a scuola, all'università non si parla di denaro. Cioè, questo tapirulan non ti dà alcuni strumenti, te ne dà degli altri, ma dal punto di vista dell'economia, dell'imprenditorialità, della comprensione di meccanismi base della società come le tasse, cioè, mancano dei pezzi, come spesso ci siamo detti in questo podcast e speriamo che piano piano a scuola queste cose arrivino. Lo speriamo e noi siamo qui per questo, per raccontarli tutti questi pezzi, metterli insieme con i nostri ospiti, con i contenuti del Sole 24 Ore che ci contorniano in queste... in questo video podcast. Grazie a Otto Kleinman per essere stato con noi. Grazie Otto, grazie, complimenti per tutto. Ciao! Ciao! Ciao!